La serata è condotta da Claudia Girini, sotto l'occhio attento della giuria, sfilano le misse. A mezzanotte viene proclamata la vincitrice e la bergamasca Claudia Ferraris, 19 anni. La corona, le lacrime e la felicità di essere considerata ambasciatrice della bellezza made in Italy. L'ultima missa a rispettare la tradizione si chiama Claudia Ferraris, a 19 anni ed è di Bergamo. Ieri sera Riccione ha vinto un lascia passare tricolore per la finale mondiale di Miss Universo con quell'aria da brava ragazza che sogna, fisico a parte, di farsi notare. Che bellezza, tanto tempo. Che bellezza, tanto tempo. Che bellezza, tanto tempo. Che bellezza, tanto tempo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.